Le associazioni fanno rete e offrono una mattinata di arte e travestimenti in occasione di Pagani in cosplay. Piazza Sant'Alfonso è stato il palcoscenico dell'evento organizzato dalle associazioni Pagani al centro e una Pagani Migliore, in collaborazione con tante realtà giovanili. I ragazzi, accompagnati dall'amministrazione De Prisco, hanno potuto esibire all'interno della principale piazza della città i propri costumi di scena, ispirati e fedeli agli eroi dei cartoni tv e delle serie. Il Grinch, Mr. Bean e Superman, ma anche tanti eroi dell'universo Marvel per la gioia dei più piccoli e non solo, con l'amministrazione che applaude. Questa è Pagani, la Pagani che vogliamo noi, piena di gente, piena di sorrisi, piena di giovani, piena di bambini, piena di tanta felicità. Il compito delle istituzioni è anche sottolineare il bello, la gioia, questa domenica, di gioia appunto, di avvento, di gioia, neanche a farla apposta. Noi amministratori abbiamo il dovere anche di far emergere soprattutto le cose belle, quelle che portano ottimismo, quelle che danno speranza e quelle che ci danno la forza di andare avanti per cambiare le cose.